Radio Radicale si è svolto davanti a Montecitorio un flash mob con esponenti delle opposizioni per criticare la sentenza che ha prosciolto il bitello per aver palpeggiato una donna in una scuola per meno di 10 secondi. Noi al termine del flash mob abbiamo raccolto le dichiarazioni dell'ex presidente della Camera Laura Boldrini che ha annunciato un'iniziativa su questi casi di violenza ma ascoltiamo che cosa ha detto Laura Boldrini al termine del flash mob davanti a Montecitorio.